Nuova edizione di Spazio e Notizia, ben ritrovati. La cronaca in primo piano partendo da Palermo. Rapina in un supermercato di Via Asciuti a Palermo. I malviventi, una volta entrati nell'esercizio commerciale, hanno fatto esplodere, usando l'acetilene, la cassa continua, arraffando il denaro contenuto al suo interno. I residenti, allarmati dall'esplosione, hanno quindi chiamato i carabinieri, i quali, intervenuti sul posto, hanno intercettato l'auto con a bordo i ladri. Al termine di un inseguimento, conclusosi in Viale Lazio, dopo lo scontro tra il veicolo guidato dai malviventi, risultato rubato, e un'altra automobile, i militari dell'arma hanno tratto in arresto uno dei responsabili della rapina, rimasto leggermente ferito. Gli altri invece sono riusciti a fuggire a piedi. Cambiamo decisamente argomento, ci spostiamo nel ragusano e parliamo di una violenza sessuale ai danni di una minorenne, con i carabinieri che dopo la denuncia del padre della vittima hanno tratto in arresto il responsabile. Vediamo il servizio. Il comando provinciale dei carabinieri di Ragusa prosegue l'attività di contrasto ai reati contro la persona e in particolare in danno di minorenni. Nei giorni scorsi i militari della stazione carabinieri di Acate hanno rintracciato un cittadino straniero destinatario di un ordine di esecuzione per l'applicazione di misura cautelare degli arresti domiciliari emesso dall'autorità giudiziaria Iblea. Il provvedimento è stato adottato a seguito di una complessa attività di indagine condotta dai militari e coordinata dal sostituto procuratore della Repubblica di Ragusa per fatti che risalgono al giugno 2022 e traggono origine dalla denuncia di un genitore per una violenza sessuale subita dalla figlia minorenne a opera di un uomo convivente nella medesima abitazione familiare. In particolare la minorenne in un'occasione in cui si trovava sola in casa con l'indagato è stata da questo più volte palpeggiata e costretta a subire atti sessuali. Solo approfittando di una distrazione dell'aggressore la minorenne era riuscita a sottrarsi dalle violenze e scappare dall'abitazione per chiamare in aiuto il padre. A seguito di ciò i militari della stazione di Acate avevano raccolto la denuncia del genitore della minorenne avviando immediatamente l'attività d'indagine e procedendo anche alla delicata acquisizione di informazioni da parte della vittima con le previste garanzie di legge a tutela della minore età. Le investigazioni corroborate anche da acquisizioni di dati tecnici hanno permesso di acquisire gravi indizi tesi ad avvalorare il racconto della vittima e contestualmente definire la responsabilità e colpevolezza dell'aggressore. Rintracciato ed espletate le formalità di rito i carabinieri hanno sottoposto l'uomo alla misura restrittiva degli arresti domiciliari in attesa del processo a suo carico per il reato di violenza sessuale aggravata poiché in danno di persona minore di 18 anni. Restiamo nel ragusano in questo caso però la notizia arriva da Ispica dove un pensionato di 79 anni Giuseppe Barone è stato trovato cadavere dai carabinieri nella sua casa. Secondo gli investigatori si tratterebbe di un omicidio. L'anziano infatti aveva segni di violenza e contusioni al volto e sul dorso della mano. A ucciderlo è stato molto probabilmente qualcuno che si è introdotto all'interno dell'abitazione della vittima ubicata in contrada Margio. I carabinieri hanno infatti accertato che la porta d'ingresso era stata forzata dall'esterno. La casa è stata posta sotto sequestro con i carabinieri del RIS che hanno effettuato un sopralluogo alla ricerca di elementi che possano aiutare a identificare l'assassino o gli assassini. Le indagini coordinate dal sostituto procuratore di Ragusa sono condotte dai carabinieri del nucleo investigativo e dal nord della compagnia di Modica. Ed ora invece a Catania parliamo di spaccio di sostanze stupefacenti e nello specifico dell'arresto di un 22enne pusher ma anche della denuncia del padre dello spacciatore che aveva provato ad aiutarlo. I militari del nucleo radiomobile del comando provinciale di Catania hanno arrestato in flagranza un pregiudicato 22enne per detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio ed evasione denunciando contestualmente in stato di libertà anche il padre un 55enne incensurato poiché responsabile di favoreggiamento personale. In particolare nell'ambito dell'operazione Buon Natale Sicuro in cui il comando provinciale carabinieri di Catania ha disposto l'intensificazione dei servizi di pattugliamento per garantire sia nel centro cittadino che in periferia la sicurezza di residenti e turisti durante le festività natalizie. La gazzella dei carabinieri nel transitare lungo via Edmondo de Amicis nel quartiere di Picanello ha notato la presenza di un giovane in palese attesa all'ingresso di una palazzina dove era noto che il 22enne si trovasse agli arresti domiciliari per reati connessi agli stupefacenti. Ritenuto quindi che fosse in corso un'attività di spaccio i militari sono immediatamente intervenuti cogliendo di sorpresa sia il probabile acquirente che il pusher il quale ignaro stava scendendo le scale in pigiama tenendo in mano 5 dosi di marijuana. La droga era proprio destinata al ragazzo fermato che ha infatti confermato agli operanti di aver poco prima contattato telefonicamente lo spacciatore per effettuare l'ordinazione. Accertata quindi la dinamica dei fatti i carabinieri si sono portati nell'abitazione dell'arrestato condivisa con il padre. In tale frangente durante la perquisizione il genitore pur mostrandosi rammaricato per la condotta illecita del figlio nell'ultimo tentativo di salvarlo da più gravi conseguenze giudiziarie gettava in maniera repentina dalla finestra una scatola di scarpe contenente materiale sicuramente compromettente. Il gesto non è tuttavia passato inosservato sia ai militari presenti nell'appartamento che a quelli posti a cinturazione dello stabile che hanno immediatamente recuperato il pacco al cui interno sono stati trovati marijuana, hashish, il tutto suddiviso in dosi, cocaina e tre bilancini di precisione oltre a materiale vario per il confezionamento dello stupefacente. Il giovane, posto ai domiciliari, è stato messo a disposizione dell'autorità giudiziaria che ne ha convalidato l'arresto disponendone la custodia in carcere. Spaccio di droga anche ad Acicatena, siamo sempre nel Catanese e anche in questo caso i carabinieri hanno tratto in arresto un pusher. Nell'ambito dell'operazione Buon Natale Sicuro, in cui il Comando Provinciale Carabinieri di Catania ha disposto l'intensificazione dei servizi di pattugliamento per garantire sia nel centro cittadino che in periferia la sicurezza di residenti e turisti che durante le festività natalizie in numerosi affollano le vie dello shopping e tutti i luoghi di maggiore aggregazione, i carabinieri del nucleo radiomobile di Acireale hanno tratto in arresto in flagranza nel comune di Acicatena un 27enne pregiudicato del posto per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Al riguardo i militari nel transitare lungo via Macello hanno notato l'atteggiamento sospetto del giovane il quale avvedutosi della loro presenza ha da subito manifestato evidenti segnali di nervosismo cercando di allontanarsi a piedi lungo le vie limitrofe. Immediato quindi è scattato il controllo che ha permesso di rinvenire due dosi di cocaina che il soggetto aveva nascosto in una tasca dei pantaloni. A quel punto i carabinieri hanno deciso di perquisire anche la sua abitazione dove sono stati recuperati nel suo accappatoio in bagno due involucri contenenti ciascuno 21 grammi di cocaina in pietra mentre nella veranda e nell'armadio della camera da letto sono stati trovati un bilancino di precisione e 5.920 euro verosimilmente provento dell'attività di spaccio essendo lui disoccupato e la moglie percettrice del reddito di cittadinanza. Il denaro e tutto lo stupefacente sono stati sequestrati. Il giovane è stato invece posto a disposizione dell'autorità giudiziaria che ne ha convalidato l'arresto disponendone la custodia cautelare in carcere. I poliziotti del commissariato di pubblica sicurezza di Niscemi hanno tratto in arresto un 25enne in esecuzione di un provvedimento di esecuzione di pena detentiva in regime di detenzione domiciliare emesso dalla procura della Repubblica presso il tribunale di Gela Ufficio Esecuzioni Penali. Il giovane è accusato del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Il 25enne è stato condannato alla pena della reclusione a un anno, un mese e quattro giorni. Ed ora invece a Castellammare del Golfo. Siamo quindi nella Trapanese per parlare dell'arresto di uno stalker il quale era evaso dagli arresti domiciliari per andare a casa dell'ex moglie alla quale però non poteva avvicinarsi a causa di un divieto. Come detto sono intervenuti i carabinieri che lo hanno tratto in arresto. La notte di Natale i carabinieri della sezione radiomobile della compagnia di Alcamo hanno tratto in arresto per il reato di evasione un Castellammarese di 67 anni. L'uomo era finito agli arresti domiciliari lo scorso novembre, a seguito di un'ordinanza di aggravamento di misura cautelare emessa dal Tribunale di Trapani a causa delle continue violazioni al divieto di avvicinamento all'ex moglie con braccialetto anti-stalking cui era sottoposto. La notte tra il 24 e il 25 dicembre presso la centrale operativa dell'arma è giunto l'allarme partito dal braccialetto elettronico del pregiudicato di Castellammare. La pattuglia dei carabinieri di Alcamo in pochi istanti si è portata presso l'abitazione del 67enne constatando che lo stesso risultava assente. I militari dell'arma, senza pensarci due volte, si sono precipitati presso l'abitazione dell'ex moglie trovandolo proprio davanti il portoncino intento a suonare il campanello insistentemente e cercando di guadagnare l'ingresso all'abitazione. L'intuito degli operanti si è dimostrato esatto. Il soggetto è stato pertanto arrestato e sottoposto nuovamente ai domiciliari in attesa dell'udienza di convalida. Torniamo a Palermo per parlare stavolta però di un intervento da parte dei carabinieri del NAS che hanno sequestrato due tonnellate di ortaggi, per la precisione si tratta di patate, che erano prive della prevista tracciabilità. Vediamo il servizio. I militari del NAS di Palermo, nell'ambito di servizi predisposti a livello nazionale dal Comando Carabinieri per la tutela della salute sul settore degli alimenti e articoli destinati alle festività natalizie, nella giornata del 24 dicembre scorso nel quartiere Oreto del capologo siciliano, hanno sottoposto a sequestro amministrativo due tonnellate di patate del valore complessivo di circa 4.000 euro per la commercializzazione senza che fosse stata attuata correttamente la tracciabilità degli ortaggi in modo da garantire la sicurezza della filiera alimentare. Le patate, provenienti dall'estero e prive di adeguate informazioni circa l'origine o eventuali trattamenti subiti, erano stoccate presso un deposito all'ingrosso di alimenti e verosimilmente destinato all'approvvigionamento di negozi e ristoranti etnici. Nel prosieguo del controllo è altresì emerso che era stata installata una cella frigorifera destinata alla conservazione dei surgelati senza aggiornare la registrazione sanitaria dell'esercizio e a conclusione dell'attività ispettiva sono state combinate al titolare sanzioni amministrative per complessivi 2.500 euro. Sono state avvisate anche le competenti autorità amministrative e sanitarie. Chiudiamo parlando di calcio del Palermo che ha chiuso il girone di andata in Serie B con un buon pareggio sul campo della Brescia e finita 1-1 con gol del pareggio rosanero siglato da Segre. A fine partita Mr. Corini ha parlato e ha esternato la sua soddisfazione per le prestazioni offerte della squadra apparsa nettamente in crescita. Nel primo tempo ho approcciato meglio il Brescia ma hanno avuto un leggero predominio rispetto a noi nonostante abbiamo avuto qualche situazione dove potevamo essere più incisivi. Hanno fatto un gol su un contraattacco dove c'è stato un errore nostro nella fase di sviluppo. abbiamo pareggiato subito con una bella azione e da lì per me è nata un'altra partita e la percezione del campo era che potevamo andare a vincerla. Abbiamo avuto opportunità per farlo e è mancato quel pizzico di lucidità che a volte ti consente di fare la scelta corretta però è stato importante l'approccio e la personalità con cui la squadra ha giocato e se andiamo a casa da Brescia rammaricati per aver pareggiato vuol dire che stiamo crescendo e abbiamo fatto una buona gara. Ci conosciamo meglio e di consulenza strutturare un'idea su una squadra ci vuole tempo, stati bravissimi nei calciatori a mettersi a disposizione. Lavoriamo quotidianamente, abbiamo chiuso per me un buon girone d'andata nonostante le tantissime difficoltà e adesso dobbiamo approcciare meglio il girone di ritorno, un qualche giorno di riposo, il ritorno a Roma che ci servirà per rimetterci in moto e poi approcciare la grande partita di Perugia in trasferto. Secondo me è giusto che certi ragazzi che hanno avuto poco spazio, se trovano la soluzione giusta vadano a giocare, dunque avere meno giocatori in movimento in rosa e i giocatori che devono arrivare a avere delle qualità necessarie per alzare il livello della nostra squadra. È un campionato veramente equilibrato dove bisogna ragionare veramente una partita alla volta e di conseguenza il nostro obiettivo è prepararsi al meglio per andare a fare il miglior risultato possibile a Perugia e sarà il tempo, il campo, le partite che determinano una classifica che oggettivamente basta guardarla e sei veramente un passo dal sogno ma sei anche a due passi dal baratro, dunque grande equilibrio e giochiamo al meglio ogni partita. È tutto, ci ritroviamo più tardi su Sicilia 24.